21.18, eccoci di nuovo in diretta con un ospite, lo vedete, ve lo presento subito. Questo è l'argomento, l'Italia è il paese con più anziani in Europa, sono proprio gli anziani che assorbono la gran parte degli stanziamenti per le cronicità. Federanziani ha confezionato un decalogo che potrebbe far risparmiare 19 miliardi al sistema sanitario nazionale. Allora, ne parliamo con Roberto Messina che avete appena visto, che è il presidente di Federanziani. Federanziani, benvenuto, grazie per essere qui con noi, ma prima di commentare assieme la notizia e la proposta di Federanziani, vediamo al servizio di Gerardo D'Amico. Da un lato le buone notizie, l'aspettativa di vita continua ad aumentare, in media 84 anni per le donne e poco meno per gli uomini. In più, in Italia, assieme al Giappone, c'è la densità maggiore di ultraottantenni al mondo, cibo, aria, geni, fatto sta che si vive sempre più a lungo. 12 milioni residenti di età superiore ai 65 anni, di cui circa 3 milioni e mezzo con più di 80 anni. La brutta notizia per il sistema sanitario nazionale è che gli ultra 65 anni assorbono il 70% della spesa sanitaria, perché la vita allunga anche gli acciacchi e le cronicità. Ovviamente sono loro, gli anziani, i maggiori consumatori di farmaci. La metà di chi supera i 65 anni ne prende più di 5 ogni giorno, per la pressione, per il cuore, per la circolazione, per il diabete. Un costo notevole, quasi sempre a carico dello Stato, ma risparmiare si potrebbe. Addirittura fino a 19 miliardi, sostiene Federanziani, se solo ci fosse maggiore aderenza alla terapia, che vuol dire innanzitutto diagnosticare precocemente le malattie, semplificare le terapie, evitando gli spezzettamenti orari, assunzioni di troppi farmaci diversi, e poi coinvolgendo medici e farmacisti sul monitoraggio della reale assunzione dei farmaci. Si risparmierebbero in questo modo gli esami inutili, l'aggravamento delle patologie, quando sono curate a singhiozzo, e quindi altri ricoveri ed altri esami diagnostici, in un circolo che rischia di non finire mai. Ecco, Presidente Messina, allora è proprio possibile arrivare a risparmiare così tanto 19 miliardi, come sostenete con il vostro decalogo? Beh, diciamo che se riusciamo tutti insieme a far applicare il decalogo, che è stato costruito con noi, con i medici di medicina generale, con l'Università di Brescia, con 54 società scientifiche, sicuramente possiamo arrivare a questa cifra completa, a regime, bisogna andarci per passi. Il primo aspetto che dobbiamo insieme come nazione, cominciare a capire l'importanza del diritto e dei doveri del paziente cronico, fino a quando non faremo comprendere ai cittadini che essere cronici non è poi una cosa così... arriva alla vecchiaia, arrivano anche le patologie, ma bisogna prenderne coscienza e soprattutto essere estremamente rigorosi da un punto di vista di assunzione dei farmaci. E allora riusciremo, spaccandolo su tre versanti molto precisi. Il primo versante su cui dobbiamo ragionare è che se il cittadino, che è un cronico, e viene diagnosticato per tempo, questo ci permetterà di arrivare fino a circa 3,7 miliardi di euro calcolati da una serie di società scientifiche e di studi di economia. Una diagnosi precoce riduce, diagnostica e nello stesso tempo riduce ospedalizzazione. Il secondo punto? Il secondo punto fondamentale è che se la figura del medico di medicina generale diventa centrale e prende in carico il cittadino con patologia cronica come il diabete, come l'ipertensione, come la BPCO, è inutile allora andare in ospedale a fare una serie di accertamenti diagnostici continui, ma molti, attraverso una diagnostica di primo livello, può essere fatta all'interno degli studi medici di medicina generale. E anche qui siamo in una forbice che va dai 3,2 miliardi e i 4 miliardi di euro. Se tutto questo riesce a consolidare un rapporto di fiducia tra medico, specialista, farmacista e cittadino, si diventa aderenti alla terapia. Essere aderenti alla terapia significa stabilizzare il paziente cronico e far sì che il codesto non vada a finire in ospedale per le recidive, per atti pertenzivi se ha l'apertensione e per altre acuzie che sopraggiungono dal non prendere le pillole. Senta, dunque la spesa farmaceutica è sicuramente molto alta, ma gli anziani hanno un bisogno di assistenza. L'Italia, non a caso, è il paese con il maggior numero di badanti. Sono effettivamente specializzate? Assolutamente no. Non è vero dire no su tutto il 100% delle badanti. Diciamo che noi abbiamo delle assistenti familiari che insieme dobbiamo prenderne atto a livello di Stato, a livello di associazioni datoriali, in questo caso i pazienti, che occorre avere in casa un abbadante che sappia leggere un foglietto illustrativo, che capisca bene la lingua del paziente. Perché spesso sono stranieri, quasi sempre. E che soprattutto sia rigorosa nel far rispettare al cittadino stile di vita da un punto di alimentazione, stile di vita da un punto di movimento, ma soprattutto l'assunzione corretta dei farmaci che ha prescritto il medico. A proposito di assunzione corretta dei farmaci, cosa fare se un anziano si dimentica di prendere un farmaco? Allora, cosa fare? Questa è la grande sfida. Questo nel corso degli anni diminuirà, perché ci sono una serie di strumenti. Oggi il 43% degli anziani, perlomeno quelli frequentanti federanziani, utilizza un telefono intelligente, uno smartphone. Quindi stiamo lavorando con loro per avere, ed essere premiato il cittadino, degli input di dati che possono arrivargli per comunicargli che deve ricordare di prendere la pillola e magari essere premiato se lui risponde che ha preso la pillola. Questo ci permetterà. Però, sullo scordarsi, l'assunzione delle pillole non lo fanno solo gli anziani over 65. Lo fanno anche i 55 anni che cominciano a prendere la cardioaspirina oppure quei piccoli farmaci che servono per diminuire delle ipertrofie prostatiche. Questa è una cosa molto naturale. È una questione di cultura, ma se vogliamo mantenere in asse il nostro sistema sanitario nazionale, che al di là di tutto è uno tra i migliori al mondo che abbiamo nella nostra nazione, dobbiamo modificare questo modo di comportarci verso l'assunzione dei farmaci che sarà l'unico modo per tenere in asse l'SSN. Un'ultima domanda riguarda la solitudine, perché purtroppo ci sono molti anziani soli e anche questo può essere un motivo in più per problemi. Cosa può fare il servizio sanitario su questo versante? La presa in carico, ma soprattutto non solo il servizio sanitario, ma proprio il sistema del welfare, deve accompagnare questi cittadini verso i centri di aggregazioni comunali, che sono i centri anziani, dove Federanziani ne ha già fatti aderire oltre 3.700, e riniziare una vita insieme a dei loro coetanei, dove possono giocare, scherzare e ridere. Chiaramente, se li lasciamo da soli, questo sarà un peso per il sistema sanitario, perché stando soli vanno incontro ad esempio ad incidenti domestici. Secondo aspetto molto fondamentale, se stanno soli si deprimono, consumeranno più farmaci e saranno meno aderenti alle terapie. Allora ringraziamo Sebastiano Roberto Messina, scusi Presidente di Federanziani, per questi importanti suggerimenti, visto che siamo una popolazione sempre più longeva, ma anche sempre più anziana. In chiusura...